Sì, fondamentale per le donne, ma perché probabilmente fa parte del nostro modo di essere. Noi come donne abbiamo bisogno di sentirci qualificate, abbiamo bisogno di sentirci preparate, abbiamo bisogno di sentirci sicure per riuscire a far fronte e a dimostrare che noi siamo valide. Quindi la formazione è fondamentale nel mondo della finanza, ma ormai in tutti i settori. Perché formarsi significa rimanere aggiornati, rimanere a contatto con quello che succede sul mercato, tutta l'innovazione tecnologica, tutta l'innovazione digitale, quello che c'è in ambito di finanza agevolata, piuttosto che all'interno di tutti, anche le realtà imprenditoriali. Gli imprenditori devono rimanere aggiornati, non sono solo i consulenti. Ormai l'aggiornamento è fondamentale per rimanere al passo col mercato. In qualsiasi settore, in alcuni settori più di altri, perché chiaramente alcuni settori vivono di informazioni che alla fine della giornata sono già vecchie. Quindi la formazione è fondamentale.